Buongiorno amigli, buongiorno amigli. Allora video pronosti, video pronosti in cui vi vado a pronostare le partite di serie A di questo fine settimana, analisi, pronosto e vi dico anche le partite che commenterò, i commenti post partita. Quindi vi invito ad iscrivervi numerosi al canale, a far iscrivere e ad attivare il campanacce perché di conseguenza quando vi dirò le partite che commenterò sarà vostro interesse, insomma se siete di quelle squadre, avere il commento pronto. Vi dirò di conseguenza il menu della trattoria youtubistica cattiana per il fine settimana. E vi invito però anche ad iscrivervi su Instagram, alessandrocatto91, in primis perché le sere prima pubblico sempre il menu videace della giornata dopo, quando ho la sicurezza dei video che andrò a fare. E poi perché faccio sondaggi, chiedo opinioni sul calcio, sul calciomercato, sul canale, quindi chi è già iscritto può garantire che è un appuntamento, un qualcosa di divertente. Quindi se avete Instagram vi consiglio di iscrivervi alessandrocatto91, ma anche se scrivete alessandrocatto ho la stessa foto che ho su YouTube, quindi non potete sbagliare. Allora, andiamo con le analisi e i pronosti. Vi dico già in barba al vendervi hype, vendervi prodotti e cose, io non vendo niente a nessuno, vi dico che non è una giornata che mi entusiasma particolarmente. E' un po' pronosti un po' deleteri, diciamo, non è che siano proprio molto, che mi gasi sta giornata di campionato, è una giornata un po' bigia, interlocutoria come partite, non è che mi gasi in particolare, però andiamo comunque ovviamente a commentarla e a pronostarla. Allora, Lazio-Sampdoria, iniziamo subito, gara di oggi pomeriggio alle 3, in barba alle statistiche perché qualcuno dirà per la legge dei grandi numeri la sfilza di vittoria della Lazio dovrà prima o poi finire. Io dico vero, però un grande numero è anche vero che non si sa quando sia tale. La legge dei grandi numeri è vera, ma non sappiamo se il grande numero sia veramente tale, no? Qui siamo in ambito matematico barra filosofico e anche ufologico, che ben ci sta. E quindi Lazio-Sampdoria, guardate, non mi interessa della statistica, metto un 1, quindi sicuramente la Lazio non vincerà, però insomma, metto un 1 perché invece credo che la Lazio in casa, la sera, contro una Sampdoria che insomma, diciamo, per usare un eufemismo non vive uno dei suoi migliori anni, la Lazio per me può portare a casa il risultato, quindi 1, forza culazio, pangasiale, la terza comoda, perché viva la classe media, viva la classe media del calcio, una Lazio rediviva e quindi speriamo che la Lazio prosegua questa sua rincorsa alle stelle. Sassuolo-Torino, qui metto un X perché Sassuolo un anno un po' bigio, il Torino è in ripresa, contestano tutti i Mazzari, non capisco perché, a parte l'eliminazione in Coppa UEFA comunque contro il Wolverhampton che non è proprio una squadretta e dopo un mercato a parte Verdi che è arrivato dopo praticamente inesistente, il Torino sta facendo il suo, viva Mazzari, lo dico io, dico un X, Sassuolo-Torino X, di compromesso. Napoli-Fiorentina, qui vi dico solo il pronosto perché l'analisi la farò nel video dopo di questo che uscirà oggi pomeriggio, pre-Napoli-Fiorentina, quindi attivate il campanello, Napoli-Fiorentina X e l'analisi la faccio nel video dopo. Milan-Udinese, voglio dare fiducia al Curato, al Milaniere dei Miracoli, al marxiano-Milaniere a due punte che tanto abbiamo agognato, sebbene in forma diversa, però dai mettiamo uno, Milan-Udinese uno, anche se non credo che sarà l'Udinese vista in Coppa con la Juve a livello di formazione, però dai mettiamo uno. Bologna-Verona, partita da tripla, perché il Verona non finisce mai di stupire, in positivo, però qui un po' la statistica, la seguo, il Verona ha vinto le ultime due partite, insomma, con tutto il bene che gli si vuole, comunque è una squadra che punta a fare un campionato in cui non sono obbligate chissà quali vittorie di fila, il Bologna invece mi pare che non vinca da qualche settimana, e qui metto uno. Spero, diciamo, per i buttei di sbagliarmi, però dico uno. Brescia-Cagliari, e qui anche vado in controtendenza, noi siamo tra le controtendenze di YouTube, qui tutti dicono che il Cagliari nella seconda parte del campionato ha e avrà delle difficoltà, che si è già spenta la favola Cagliari, Brescia è un campo ostico, per carità, però io dico X. Dico X perché è vero che, anche io dico che, le squadre di Marani in genere, nelle seconde parti di campionato, fanno un po' più fatica, però è vero anche che, anche il Brescia non è che stia brillando in questo particolo, in queste ultime settimane, metto una X, dai. Lecce-Inter, ma qui metto un 2 perché l'Inter ha pareggiato l'ultima, l'Inter gioca meglio in trasferta, magari è galvanizzata dalle ultime notizie di mercato, ci sarà voglia di replicare la bella partita fatta col Cagliari anche in campionato, di stare in corsa, assolutamente, quindi Lecce-Inter metto 2. Genoa-Roma, due anche qui, la Roma con Fido in Faulo-Ponseca, nella Roma pangasiale, è vero che il Genoa non ha assolutamente una squadra, se tu la leggi, da dire questi vanno in B, perché ci sono dei buonissimi giocatori, però la Roma ha vinto in Coppa Italia, è in corsa per il quarto posto, credo abbia le qualità per andare a Genova e vincere, e metto 2. Però sì, è una partita comunque difficile, e quando fai i pronosti con i segni secchi, è una cosa che devi scegliere, quindi è di per sé difficile, però Genoa-Roma metto 2. Juve-Parma, qui metto 1, anche se è una partita un po' più complessa di quel che può sembrare per me, perché il Parma gioca di contropiede, ha tre ottimi intepreti, poi non so chi giocherà tra Kulusevski, Gervinio, Inglese, tutti e tre, però il Parma in contropiede è pericoloso, e quindi è una partita in cui la Juve dovrà mantenere la soglia dell'attenzione molto alta, però dico 1, dai, vediamo se questo lo prendiamo, Atalanta-Spal, 1 per forza di cose, perché voglio dire, l'Atalanta ha perso in Coppa con la Fiorentina, è in corsa per il quarto posto, gioca in casa, divario tecnico, tattico, tutto quel che volete, mi pare ampio, è vero che la Spal è una squadra che emerge nelle partite impreventivate, in altre situazioni avrei anche potuto giocare la X, però oggi dico 1, Atalanta-Spal 1. Quindi vi vado a ripetere i segni, i pronosti e poi passo al menu della giornata, delle giornate anzi. Lazio-Sandoria, 1, Sassuolo-Torino, X, Napoli-Fiorentina, X, Milan-Udinese, 1, Bologna-Verona, 1, Brescia-Cagliari, X, Lecce-Inter, 2, Genoa-Roma, 2, Juventus-Parma, 1, Atalanta-Spal, 1. Va bene? Ora vi vado a dire, tolgo qui, e vi vado a dire il programma, mi prendo la carta da formaggio, che me lo sono anche segnato, pensate che professional. Allora, oggi, beh, è uscito questo video qui di pronosti per la mattina, oggi pomeriggio pubblico il pre-Napoli-Fiorentina, quindi analisi pre-gara, commento, sensazioni, situazione, formazione, magari qualche pepituziella di calciomercato, visto che se ne parla. Poi, la sera, faccio il commento, ovviamente, a Napoli-Fiorentina, quindi tutti i tifosi viola, ma anche napolitensi, attivino il campanace, perché immediatamente, o meglio, dopo la partita, uscirà il mio commento al match della viola. Quindi oggi, sostanzialmente, la giornata presenta pronosti pronosti pre-Napoli-Fiorentina e post-Napoli-Fiorentina. Domani, allora, la mattina, video del giorno dopo Napoli-Fiorentina, perché, ovviamente, se giochiamo oggi lo devo far domani, il pomeriggio, purtroppo, non posso commentare l'Inter, perché? Perché c'è Bologna-Verona, che gioca la stessa ora. Abbiamo inaugurato l'Arena dei Butei, quindi, insomma, dobbiamo rinfrancare il popolo veronese e quindi Bologna-Verona, non posso saltare il commento di una partita del Verona, che, insomma, l'abbiamo salvato, l'abbiamo creato noi, il carro del Verona è stato costruito nel Camerale e quindi, purtroppo, e devo, però, non temete, perché poi vi dico che ho la exit strategy, Bologna-Verona, il pomeriggio, commento quella, e la sera della domenica, 19, ovviamente, domani, commento Juventus-Parma. Vero è che, siccome lunedì mattina non devo fare un, come si dice, il giorno dopo della Fiorentina, vediamo se riesco a fare un video sull'Inter, però è anche vero che, magari succede qualcosa della Fiorentina, ma soprattutto è vero che la sera, ci sarà ovviamente la sera del lunedì, alle ore 21, come al solito, processo al campionato, e quindi potrete farmi lì tutte le domande che volete, potete farmi lì tutto quello che chiedermi, tutto quello che desiderate, i vostri desi, le vostre richieste, tutto quello che desiderate, lunedì, ore 21, per tutte le squadre, per tutti i tifosi, per tutti i feccanieri, ore 21, tranquilli, io qui, voi lì, processo al campionato, lunedì, sera, e quindi, per tutti i dubbi, per tutti gli avanzi, per tutte le cose che vanno discusse e parlate, come dicono i futuristi, vi invito in ogni caso a quell'appuntamento. Va bene? Fatemi sapere cosa ne pensate, condividete, fate iscrivere, il solito, buone partite, attivate il campanaccio, e un saluto.